Musica Era più intelligente, più ricca, più generosa, più alta, più bella, più disimbolta. Fettivamente io parlavo meglio, se voi credete che tutte queste siano scuse da... Siete proprio, io sono tutti, io. Poi non potei far altro che sopprimerlo sul serio. Inevitabilmente... Ho sempre pensato alla maniera di spazzarmi di lei. Ma... Piccimane all'avvelenata. Ma erano le sette. Del giorno dopo. E io avevo uno spillo che è lunga. Mmm, molto lunga. È lunghissimo. Io non posso cambiare cosa. L'uomo dopo è che dimenticare i suoi peccati. e ogni giorno le fiume a mano che confida la notte non ti guardo perché io sono una persona delicata l'ho uccisi perché avevo una pistola ci faccio una ritata era tanto brutto quel poveraccio che ogni volta che lo vedevo gli avrebbe un insulto all'ultimo scacomatto presi un alziere e glielo piccai dicono dentro un occhio con contento discorso implateranno su cose di nessun interesse e grattiscono un altro bicchiere un altro alziere di caffè un grattiscono un altro bicchiere un altro po' di caffè un beccetto per caso un beccetto ma grappa d'un tratto a lei sottai mentre che è un po' più tardi è molto facile è un altro pallaio l'ho uccisi perché era più forte di me è molto facile ma invita là più Grazie a tutti